cari amici dell'album dei ricordi oggi abbiamo veramente il piacere di essere ospitati in una famiglia speciale di Forio una coppia bellissima che sicuramente è molto nota agli amici di Forio e che vogliamo far conoscere anche a quanti ci seguono dagli altri comuni perché sono belle storie belle testimonianze di amore e di laboriosità e di impegno anche sociale siamo qui con Giovanni Coppa e con la moglie la signora Maddalena Cenatiempo che per tanti anni è stata anche insegnante nel nostro paese nel nostro comune nella scuola di Forio e insieme ecco faremo questa chiacchierata all'insegna dei ricordi all'insegna delle esperienze vissute che devono poi ecco anche come dire lasciare il segno alle nuove generazioni che magari tante cose neppure le conoscono Giovanni io inizierei innanzitutto dalla tua data di nascita 27 3 1932 32 e quindi da poco abbiamo fatto anche il compleanno il giorno di Pasqua di domenica a mezzo di Pasqua viene sempre di mezzogiorno di domenica sono nata di domenica tra mezzogiorno e l'uno quando l'angelo passava qua il giorno di Pasqua quindi tu sai che chi nasce a Pasqua altro che nasce da Natale chi nasce a Pasqua veramente è benedetto già questo è un segno come dire della provvidenza ecco un segno positivo della vita prima di ecco addentrarci nella tua esperienza personale un riferimento ai tuoi genitori perché hanno una storia particolarmente affascinante un riferimento dai miei genitori è questo mia madre era nata in America è venuto qua in Italia a tre o quattro anni figlia a Renzi era vicino a Mongoppa a Monterone quindi erano emigrati i genitori? prima allora erano emigrati perciò si trovavano due sorelle in America si è morta a qualche tempo allora poi scusa mentre mio padre viene da Palomera a razza e scopo a Cazzone così si pronunciava così la dica c'è sta chi dice che chi le scopo chi dice che scopo a Cazzone comunque noi siamo stati sempre dei figli sopra i nomi particolari sopra i nomi particolari Palomera per chi non lo sapesse si trova nei pressi di Cava dell'Isola la parte interna e ci sta pure noi oltre che porti da fuori alla strada porti verso la come si chiama cosa dica alla Cava dell'Isola comunque mio padre era un bravissimo operai ti chiamiamo bracciando agricolo cose cose però qua lavoro non genera nel 39 si fece il libretto da Mastopep Serpico cioè Mastopep eh che lo chiamiamo? Mastopep si chiamava così e con quello poteva espatriare in Germania a lavorare però lo misero a lavorare in una polveria in un'officina che faceva cartucce ma noi di mio padre che è stato poi venne dopo un anno mio padre con un dito schiacciato è stato qua qualche 20 giorni e se ne è andata un'altra volta quando se ne è andata la seconda volta non abbiamo saputo più niente e neanche alla fine poi lo dico pure alla fine quando è venuto mio padre ho saputo mio padre che cosa aveva fatto in Germania niente assolutamente niente comunque mio padre nel 39 nel 40 è venuto se ne è andata e non è tornata più è tornata a luglio del 45 in questi cinque anni mamma andava cercando tramite console e cose non si sapeva questo dove era arrivato erano anni molto difficili dove si pativa anche la fame no? gli anni della guerra la fame l'abbiamo patita il primo giorno della guerra perché noi non avevamo questa casa forse non c'entra in queste cose non avevamo questa casa qua la casa è più bassa solo le piante del re e se ne è pure mezza cadenta diciamo la verità insomma e cose e comunque poiché mio padre si aveva messo in testa che non ci voleva pagare il pigione al padre disse che noi non dovevamo pagare mentre il padre che era un un uteritore il nonno sarebbe o nonno Giovanni nonno Giovanni nonno Giovanni ci mise in caso ci mise in caso e comunque tallarigo all'arcamene che allora faceva il una specie di giudice non è più comune non so manco come si dice e allora disse mia madre mise a mia sorella a letto per quel giorno che dovevano venire a farci lo sfratto e allora disse dalla riga dice signor voi tutto dovete fare ma pagateci il pigione normalmente e non vi preoccupate che fuori non uscite e mia madre così faceva però soldi non avevamo ma pagateci e pagateci e pagateci e pagateci e gli dicevano a vendere un pane qua a destra quindi il pane di cui avevate diritto lo mettevate in vendita per pagare il pigione capito? no si compravano due o tre giorni di pane in modo per accumulare per esempio tre chili e si vendeva chi e con quel guadagno perché se ci guadagnava sopra se un pane si pagava per esempio 50 lire a chili tu lo vendevi a 100 lire con quello nell'anno tu mettevi a posto i soldi per il pigione senti Giovanni chiedere scusa alla signora che poi coinvolgeremo dopo perché questo è un aspetto bello come si tirava avanti il pane lo vendavate tu avevi la passione e nello stesso tempo era anche una fonte di sussistenza quella di andare a mare e riuscivi a trovare non era solo una una passione era una necessità perché di qua passavano professionisti verso l'una che andavano pure pulendo pure paracine una piccola erbetta che poteva essere da cucinare da cucinare andavano a fare tutte cose allora noi mio fratello o qualche altro si cercava di starci in giro perché dove non cacciavano quelle non potevano neanche noi e l'erba avevano e noi portavamo un po' di verdura a casa poi andavamo alla capellisera io e mio fratello questo lo facevamo per andare a raccogliere che il che sta sotto alle alghe come si chiama che non è non precise qualche cosa che resta qua da mare così un zoccolo un pezzo di legna una canna e quello facevano fuoco con quello facevano fuoco quindi con la legna che diciamo arrivava a mare dopo magari una mareggiata e quello era diciamo il combustibile per alimentare la cucina il riscaldamento ma quando tenevano la lisa una lisa andavano a comprare un penicil che loro così si chiamavano dall'ingegnere trova qua giù una lisa una lisa per un penicil che i penicil erano praticamente le tralci delle vite che venivano potate e tu a mare eri diventato un abile anche procacciatore di tutta una serie di prodotti che oggi forse sono poco conosciuti però sempre nell'acqua bassa più di 4 metri non sono mai scese e che cosa trovavi? abbiamo trovato Patel Range Scungil qualsiasi cosa che si mancherano di mare che trovavano che le schienze ma che le schienze le mancherano le esce pure sott'acqua anzi soprattutto sott'acqua questa rappola che abbiamo detto che chi la vendeva viti che quella la vendeva come rappola di Procida la rappola di Procida di me era nominatissima per i vermi quando le vendeva i vermi le burare è buona mangiata ok